Quello che dicono di lei è vero? Non la conosco. Sono quattro giorni per salutarsi. Facciamo solo che passino. Signora, sono Rebecca, la Stuart. L'abbiamo sistemata in un'altra cabina. Lei ha perso l'affidamento del figlio. Grazie. Ci deve essere qualcosa di seriamente disturbato in lei. Saluta tua madre, Ken. Dov'è mio figlio? Non voglio restare qui. Viniamo! Adesso, abbiamo fatto un po' di te. Non ciò che mi ha detto, ne ho? Un giorno sarai libero di fare tutto ciò che vorrai. Permesso. Aiuto! Non è venuta! Non può fare cose del genere in barca, signora. Non mi potete impedire di cenare insieme a mio figlio. Ken. Perdonami. Non credere a quello che ti è stato detto, Ken Zavro. No. Non. No. No. Grazie.